I richiedenti asilo dovranno svolgere lavori socialmente utili e questa è una delle novità previste nel pacchetto immigrazione che il ministro dell'interno Marco Minniti presenterà domani in Parlamento. Per il nostro territorio non è una grande novità, così come commentato dall'assessore all'immigrazione Valentina Morigi, anche in relazione al passaggio della gestione dei profughi dalla Prefettura al Comune di Ravenna, che nei prossimi mesi sarà del tutto operativa. Intanto siamo nella fase di elaborazione del bando, una volta che i contenuti saranno completati abbiamo il compito di presentare le linee di indirizzo generale in sede di Commissione Consigliare, così come ci eravamo impegnati in Consiglio Comunale, vogliamo presentarli anche alla città in maniera molto trasparente e aperta in modo che chiunque, dalle imprese che intendono partecipare ai bandi, alle associazioni che vogliono spendersi nel territorio, possano conoscere i contenuti del bando. Al di là della tempistica e quindi delle modalità attraverso cui presenteremo alla città i contenuti del bando, resta fermo uno dei criteri discusso in ambito di Consiglio Comunale e di Commissione, cioè l'obbligatorietà dell'individuazione di attività socialmente utili. In realtà questa scelta, che devo dire mi ha sorpreso perché anche a livello nazionale l'indirizzo che si sta assumendo è questo, è una scelta che venne già praticata attraverso il patto per i beni comuni, il regolamento per i beni comuni. Già oggi diversi richiedenti protezione internazionale sono impegnati in attività di volontariato, di collaborazione con associazioni e comitati cittadini. Quindi partiamo da una tradizione e un'esperienza che a Ravenna si è già maturata, la inseriamo in maniera obbligatoria all'interno dei bandi, chiedendo una grande collaborazione non solo dei gestori ma anche dei comitati cittadini, delle associazioni che nel territorio operano e che possono trovare energie nuove, scambi nuovi e nuova partecipazione alla vita della comunità. Direi che non può che essere positivo, non può che andare nella direzione appunto dell'inclusione sociale, dell'intercultura e dell'essere comunità accogliente. Grazie a tutti!